tan 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 sono pronto per fare il tronista dalla signora buonasera sono maria la più amata conduttrice buonasera signore signore e signore eh! voglio andare pure io a fare il tronista oggi 32 anni questo lion però tutto sommato ragazze dai ci vogliamo andare a fare un giro tutti insieme ma andiamo via la reginetta un attimo con qualche scusa e poi andiamo tutti a divampare con tessine, principesse regine per le proprie idee dell'Olimpo giulincelle, donzelle franciulle, milf con la m maiuscola donne con la d maiuscola, speciali, erotiche sensuali, sexy, super eccitanti con tessine, principesse, regine per le proprie idee dell'Olimpo andiamo tutti assieme appassionatamente a divampare immensamente sarà un fuoco intramontabile indicibile indescrivibile eh? allora ci state eh? mh? bonazze eh? bellezze celestiali ed infernali? dai a parte gli scherzi mi raccomando mettete like fatemi questo regalo siccome oggi appunto è il mio compleanno 32 anni tonti tonti e non sentirli proprio affatto perché io sono qui sempre ad allenarmi sempre a scrivere sempre ad evolvere magnificamente l'invecchiamento mi fa un baffo sì magari magari fosse così comunque regalo più bello che mi potete fare è di appunto fare like a manetta il più possibile al massimo condividete i miei video magari scrivete gli auguri giù nei commenti perdonatemi che fa caldo ma mi fa un baffo pure il caldo sono qui e me ne sbatto le scatolette quindi fate gli auguri nei commenti scrivetemeli lì e condividete appunto tenete attivata la campanella e chi non si è iscritto si iscriva al canale di Vincent Lionheart la 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 dai che poi andiamo tutti insieme a fare una bella notata nel mare e a giocare e a rilassarci col sole sulla faccia distesi sulla spiaggia sto improvvisando un po' di freestyle come fanno in rap ripoeti veri oh yeah ci si vede ragazze bellezze bonazze mie erotiche creature al prossimo video di Vincent Lionheart canto servaggio show yeah eeeh eeeh Grazie.